Bella ragazzi, io sono Martex, bentornati su una nuova guida di Fortnite Oggi andiamo a completare il Fortbat numero 49 che si troverà nella caverna di Giaccio di Trog Sud ovest della mappa ragazzi ci buttiamo subito, per chi non lo sapesse Trog è proprio lui, lo Yeti di Fortnite Anche oggi la scia è il nostro super favore ragazzi, come ci ho detto, sud ovest della mappa Il foro per la caverna si troverà lì, di fronte a noi verso ovest In particolare ragazzi ve lo vado anche a pinnare, eccovelo qui Quindi potete entrare direttamente dalla parte posteriore oppure dalla parte anteriore della caverna ragazzi, tranquillamente Allora, il Fortbat dovrebbe essere qui Io spero di esservi stato d'aiuto ragazzi, se così fosse vi invito subito a lasciare un bel like Condividere il video con tutti i vostri amici e soprattutto iscrivervi al canale se ancora non siete iscritti Noi ci becchiamo in una prossima video guida, un salutone da Martexone Sia brothers